Daniele Legnani, pronti via, finalmente è arrivata la benzina da mettere nei motori della PGS, che dobbiamo ricordare assume questa nuova denominazione PGS e Ferrari nel cuore. Esatto, sì, adesso possiamo finalmente iniziare, praticamente noi siamo stati promossi dalla Serie C in B2 agli inizi di maggio, le trattative per riuscire a siedere la squadra sono state piuttosto lunghe, quindi partiamo oggi, dobbiamo recuperare il tempo perduto perché chiaramente la squadra base praticamente verrà riconfermata quello dello scorso anno, chiaramente noi partiamo come prima cosa nella conferma dell'allenatore, che è Nicola Benini, un allenatore che ha già fatto la B2, ha fatto anche della B1, quindi un allenatore con cui ci siamo trovati benissimo, quindi lui è super confermato. Oggi dobbiamo chiaramente confermare la maggior parte delle giocatrici che hanno contribuito a questa promozione, abbiamo due o tre sostituzioni da fare, quindi chiaramente oggi siamo all'inizio di luglio, dobbiamo cominciare a recuperare il tempo perduto sul mercato perché dobbiamo trovare due o tre giocatrici praticamente in ogni ruolo, c'è un'alzatrice, una banda che ci aiuti, probabilmente anche un centrale. Almeno dobbiamo trovare tre nominativi che ci diano una mano per portare, chiaramente il nostro obiettivo per il primo anno è la salvezza. Le trattative sono in corso, non sono facili, però chiaramente adesso parlare di nomi forse è un po' presto perché sono i primi giorni che noi stiamo facendo mercato, dobbiamo chiaramente però trovare almeno due o tre persone che ci aiutino, se no la salvezza diventa molto difficile. Non sappiamo quale sarà il girone, quindi i gironi di serie B2 sono otto sparsi, quindi potrebbe capitarci tutto il Trivenito, potrebbe capitarci un girone emiliano lombardo che è chiaramente con trasferte abbastanza importanti. Quindi preferiresti il girone Trivenito, anche se forse però ci sarebbe un gap tecnico da colmare superiore rispetto a quello lombardo, o sbaglio? Mi dicono che il girone lombardo sia abbastanza impegnativo. Io la B2 la conosco poco, è tre anni che siamo in serie C, mi dicono che per la salvezza bisogna proprio lavorare molto, quindi chiederemo alle nostre ragazze un impegno costante negli allenamenti, nelle sedute pesi, perché dobbiamo colmare un gap non tanto tecnico ma quanto anche fisico, sinceramente. Come sono formulati i campionati, quante retrocessioni sono previste? In B2 sono previste quattro retrocessioni, i gironi normalmente sono di 14 squadre, devono essere ancora formate, in quanto poi la federazione ha detto che potrebbero essere da 12 a 14, sia a seconda delle squadre iscritte, quindi le iscrizioni scadono il 12 luglio, da metà luglio avremo poi tutte le informazioni precise su in che girone saremo e in quanti siamo. Non ponendo limiti alla provvidenza, giusto guardare anche un po' in alto. Meccanismi di promozione? Meccanismo di promozione direi che il primo anno diventa molto difficile, è chiaro che noi faremo di tutto per essere tranquilli e salvi, cioè vorremmo arrivare non a fine campionato a giocarci la salvezza l'ultima giornata. Oggi, chiaramente io ringrazio Ferrara Necorbo che chiaramente ci dà la possibilità di fare questo campionato, iniziamo chiaramente con un budget che deve essere ancora completato, chiaro che se dovessimo riuscire a completare il budget abbastanza velocemente e avere qualche risorsa in più per trovare qualche giocatrice un attimino più che ci possa aiutare a raggiungere una salvezza tranquilla, una metà classifica sarebbe l'ideale, perché oggi la prima viene promossa, ai per gli off partecipano solo la seconda e la terza, quindi è impegnativo al primo anno riuscire a fare un risultato di questo genere. Dove potremmo assistere alle gare delle ragazze della PGS? Questo è un problema che sto già trattando da almeno 15 giorni, abbiamo già parlato col Comune, stiamo cercando di parlare col Pallapalestre, perché chiaramente non è collegato al Comune, a noi piacerebbe riuscire a fare le partite al Pallapalestre, però chiaramente avremo bisogno almeno di un allenamento e di fare la partita al Pallapalestre, sto aspettando, adesso poi al Pallapalestre sta cambiando il responsabile, dall'8 luglio ci sarà un responsabile nuovo, quindi non mi possono dare risposte fino a quando non si insedia il nuovo responsabile del Pallapalestre, quindi noi abbiamo fatto la richiesta. Grazie.